Oh, guarda la impressione! Buongiorno Noemi. Ciao. 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 A Mario. Mario 1. Ciao. Riprendilo mentre si mette il costume. Certo. Mario, per certezza, ti puoi far riprendere il costume? Bruna ci deve fare un video nell'estate. Bravo! Bravo! Vabbè, è nudo! Dai! Lo stiamo facendo. Scusami. Mi sto spalloncinando. Ciao. 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 Ok, ci riprobiamo. Ma la è spezzato. E' tol. Buah! Adioche. 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 Sei immobile. C'è una scarpe! Adioche. 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 Faccio. Sume也是. C'è una scarpe! Adioche. C'è una scarpe! Questa è una scarpe! La Scarpe! La Scarpe! Una scarpe! yè! Questa è una scarpe! la Scarpe! Pachepida! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.